Il centrosinistro è mai arrivato a vincere il primo turno a Milano, da quando, dal 1993, il sindaco viene eletto con queste modalità. La destra è forte, forte, finché non la guardi da vicino. Quando la guardi da vicino e in una grande città la vedi da vicino, scopri le sue debolezze. Io penso che Salvini sia il responsabile principale del risultato del centro-destra. Da quello che abbiamo capito, alla fine ha gestito l'unico eccesso di centra, è stato martellante a Milano con i suoi proclami, ripeto, Salvini, fino a qualche settimana fa diceva che non avrebbero vinto a Milano, avrebbero stra-vinto. Allora l'impressione è che non conosce abbastanza bene la città. Permettetemi una piccola piccola cosa, voglio dedicare a mia mamma quello che spero sia un grande successo per me e per Milano. Grazie.